musica 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 bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e buongiorno ragazzi buongiorno anche oggi, buongiorno a chi va a scuola buongiorno a chi va al lavoro benvenuti al nuovo videozzo ragazzi che vedrà un sacco di cose inserite con uno degli aggiornamenti più strani di fortnite quello che è arrivato circa tre giorni fa e che ha visto introdurre come tutti sappiamo la trappola congelante ma che era un po' troppo pesante per tenere dentro solo una semplice trappola già presente tra l'altro nei file di gioco sto parlando ragazzi dell'update incredibile da 2 giga che ha visto arrivare un sacco di elementi relativi all'evento che tutti ci stiamo aspettando su fortnite sto parlando ovviamente del fort nightmare il nostro evento di halloween tra l'altro in questo video parleremo di tutte le cose, tutti gli outfit che sono arrivati e li vedremo e parleremo anche di un tweet particolarissimo che ieri notte ha pubblicato epic games e che riguarda il bombarolo oscuro ragazzi quindi vi faccio subito una bella domanda voglio sapere nei vostri commenti se sciopperete oppure no il bombarolo oscuro mi raccomando ragazzi scrivetelo qua sotto nei commenti io credo che sciopperò il piccone del bombarolo che è veramente bellissimo tra l'altro ragazzi mi raccomando un bel like supportate questo canale e iscrivetevi al canale in tantissimi ragazzi è assolutamente una cosa che mi fa un sacco piacere quindi ragazzi andiamo subito a parlare di quello che dovremmo aspettarci con questo evento di halloween che già è in preparazione nella nostra nei nostri siti di fortnite come vedete ci sono un sacco di case già addobbate abbiamo visto anche le zucche ne abbiamo viste tante ma forse non tutti hanno visto le skin che avevamo già diciamo di cui avevamo già parlato nella puntata precedente delle news di fortnite quelle relative alla schermata della settimana numero 1 quelle di halloween ragazzi siete pronti? mi tengo mi tengo mi tengo ragazzi pronti 3 2 1 scazzaia questa ragazzi è la prima skin di quelle che troveremo per Halloween ragazzi la skin dello spaventapasseri in versione femminile quindi gigi veramente bellissima con questi girasoli sia in testa che come ornamento e anche come collie diciamo la faccia è ovviamente quella di uno spaventapasseri occhi gialli e tanta tanta roba ma non è solo questa quella che vedremo ragazzi abbiamo anche la versione maschile sbong questo è veramente figo ragazzi ecco questo io credo che me lo sciopperò perché è veramente veramente molto molto bello ragazzi anche lui occhi gialli uno spaventapasseri fatto veramente benissimo con una specie con un teschio al collo molto molto interessante anche lui faccia abbastanza malvagia come è giusto che sia nell'evento di halloween e vestiti stracciati diciamo che fa veramente un sacco un sacco paura questo spaventapasseri queste due skin però ragazzi non arrivano ovviamente da sole e qua ci chiediamo una cosa i picconi e i deltaplani e i backpack arriveranno disponibili nelle sfide di halloween oppure saranno acquistabili nello shop staremo ovviamente a vedere se per caso avremo la possibilità di sbloccarli senza dover cacciare airgrano guardate un po' ragazzi boom questo è il piccone ragazzi veramente veramente figo un piccone interessantissimo molto molto bello per quello che mi riguarda per quello che riguarda la texture fatto con uno strumento agricolo di altri tempi un bastone ovviamente annesso e come vedete c'è tutta la fasciatura che va a riprendere alla perfezione lo stile di entrambi gli spaventapasseri veramente gg e andando avanti ragazzi eccolo qua il backpack questo è il backpack dello spaventapasseri maschile come vedete gli occhi li riconosciamo tutti sembrano proprio quelli di raven e la casetta è una casetta per gli uccelli quelle che ci si quelle che si trovano spesso e volentieri in campagna avevamo già anticipato qualche video fa che ci sarebbe stata forse la possibilità di sbloccare nelle sfide un nuovo pet che sarebbe il corvo potrebbe starci il corvo e gli spaventapasseri stanno veramente bene assieme e andando avanti ragazzi eccolo qua invece il backpack dello spaventapasseri femminile invece questo è un nido tra virgolette come vedete le uova rotte alla base ci suggeriscono che è un nido mega girasole dietro per tenere come sempre tutto lo stile in concordanza con la skin femminile mi piace però molto molto di più quello del raven la cosa curiosa è che sono molto piccoli questi backpack io ne ho avuto il piacere di vederli già in game non in game in un come si dice in un video sono molto molto piccoli chissà se li ingrandiranno oppure no ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua il deltaplano degli spaventapasseri ovviamente uno spaventapasseri gigante veramente figo veramente figo e che c'è da dire mantello distrutto mani fasciate molta molta paiura veramente tanta roba ma ragazzi le cose non sono finite come vi avevo anticipato all'inizio del video questa notte per noi è stato ieri alle 23 più o meno sì alle 23 per invece il nord carolina quindi la sede di ap games erano le 17 e alle 17 di ieri fortnite pubblicava su twitter questo tweet pro tonight come vedete c'è un fulmine con delle nuvole il simbolo del maggiore dove c'è il sole più l'arcobaleno che cosa vuol dire vuol dire ragazzi che è arrivato nello shop il pombarolo oscuro il fulmine sta ad indicare il fulmine del cubo ovviamente la parte delle nuvole sta ad indicare l'oscurità così come il sole sta ad indicare invece la luce e l'arcobaleno ci fa capire ovviamente che stiamo parlando del bombarolo ringrazio ovviamente queste intuizioni al nostro amico haidine ringrazio tutti i ragazzi del mio team di leakers sul mio gruppo telegram che ogni giorno mi tengono super aggiornato con tutte le cose che trovano tutto il data mining che fanno ma ragazzi andiamo finalmente a vedere quello che tutti noi volevamo quindi la skin del bombarolo oscura lo abbiamo già visto ragazzi eccolo qua il piccone veramente fighissimo ragazzi guardate è un unicorno come quello del bombarolo lucente solo che è molto molto cattivo e a me sinceramente piace davvero tantissimo corno nero non sappiamo corno rosso scusate non sappiamo se cambi come nel caso del bombarolo lucente a 2 kg sapete nel bombarolo lucente il corno diventa colore arcobaleno anche questo ragazzi vediamo che alla base al posto che avere le rotelle viola a due rotelle con gli spuntoni e tutte le scie che lascia ogni volta che si colpisce sono di colore viola quindi sempre in tema di malvagità e andando avanti ragazzi ecco il delta plan invece che il nostro bombarolo oscuro niente di esagerato ma non poteva che essere un deltaplano con le rune del cubo sopra somiglia molto al deltaplano tempesta uno dei più uno dei deltaplani più datati di fortnet io ricordo già di vederlo dalla terza stagione quello viola che costa tipo 1.200 una cosa del genere comunque un deltaplano epico se non ricordo male ovviamente ci sta tantissimo anche il deltaplano del bombarolo oscuro e finalmente ragazzi la skin ta da la skin del bombarolo oscuro ragazzi bellissima meravigliosa eccola qua ragazzi esattamente fedele o comunque molto molto simile a quella che già era stata liccata da un po' di tempo sui sui siti e sulle pagine dedicate al data mining di fortnite quella che avevamo anche visto nella schermata di caricamento della settimana numero nove della stagione numero cinque meravigliosa a me personalmente piace non la scioperò per semplice fatto che io non scioppo le skin femminili quindi è bellissima e tutto quello che volete come vedete sul petto ha l'unicorno nero ovviamente quindi per stare ad indicare la malvagità e vedremo ragazzi adesso cosa succederà dopo che è arrivata la skin del bombarolo oscuro mi raccomando ragazzi fatemi sapere qua nel video nei commenti se sciopperete oppure no la skin del bombarolo oscuro io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi tantissimi al canale noi ci vediamo più tardi in live ciao ciao